Circa 180 persone questo pomeriggio sono rimaste intrappolate all'interno di un intercity. Il treno infatti a causa di un guasto al locomotore si è fermato qualche chilometro dopo la stazione di Castiglion, Fiorentino. Le porte chiuse prima si moriva, senza aria, senza niente, insomma, comunque è andata bene così per il momento. L'intercity era partito da Napoli centrale ed è diretto a Milano. L'unica sofferenza è stata il caldo perché non funzionava l'aria condizionata e quindi siamo scesi anche dal treno. I primi ad intervenire a seguito del guasto sono stati i vigili del fuoco assieme agli agenti della Polizia Municipale di Castiglion, Fiorentino. Sul posto anche i carabinieri sanitari del 118 e la protezione civile. I passeggeri estremati per il forte caldo sono stati fatti scendere dopo aver aperto le porte. Il nostro intervento è stato un supporto ai passeggeri sia in collaborazione con la protezione civile, la Croce Rossa e le misericordie locali per la distribuzione di acqua e sì anche per una valutazione sanitaria di persone che viaggiavano perché erano presenti sia cardiopatici, diabetici e quant'altro. È stato fatto un solo soccorso per una distorsione della caviglia che una signora era scesa dal treno non autorizzata e ha fatto una distorsione della caviglia. È stata immobilizzata, trattata e continua il viaggio e verrà poi valutata a Milano. Alle 17 l'intercity è stato accangiato da un'altra locomotiva che ha trenato il convoglio verso la stazione di Castiglion, Fiorentino, da qui dopo i controlli del caso il treno si è rimesso in marcia verso Arezzo e poi Milano. In viaggio sul treno anche Ilaria Abidini, Cavaliere della Repubblica e da anni paladina nella lotta al bullismo di ritorno da Roma assieme a Saverro e Tommasi. Ovviamente il traffico lungo la linea ferroviaria e a Retina ha subito non pochi rallentamenti. Adesso siamo saldi!